E dopo, do chardonnay, andiamo ad assaggiare Chirac Cabernet, con un guy here, sempre di Penfold. Bel colore questo. È un 2021, gradazione alcolica 14,5 gradi, mica cotiche. Vi facciamo prendere un po' di aria. Allora, al naso, subito lo troverai sicuramente pulito. Noterai subito delle profumazioni, dei ricordi, di frutta rossa, ma anche una nota pepata, di pepe verde, una nota affumicata. Non manca, leggera, non è un grandissimo Chirac, dove a volte ci sono queste note affumicate, poi dipende lo Chirac. Ci sono delle note verdi in mezzo, quindi sono anche qui, ci sono delle estensioni anche di erbe aromatiche, ci sono delle note un po' verdi. Allora, sì, l'intensità assolutamente c'è, la persistenza c'è, però sulla persistenza tende un po' alla lunga, un po' a disperdersi, manca un po' il dettaglio. Insomma, sarebbe bello sentire, avere un po' più di compattezza, no? Anche in fase di persistenza. Rimane comunque un vino molto piacevole, immediato, di facile lettura, odori di ciliegie, amarasche, amarene, more, prugne. Prugne anche sotto spirito, poi ci sono quelle prugne, adesso mi sfugge sempre il nome, quelle che vengono fatte a bagnomaria, come si chiama? Scrivono nei commenti, così non mi ricordo mai. Sì, piacevole, poi man mano che si apre, nel 2021, vengono fuori altre profumazioni, un tratto di ricordi di iris. E sempre questo pepato che viene fuori, con questo leggero affumicato, molto piacevole. Ecco, proprio volevo trovare un pelino, in fase di persistenza, mi sarebbe piaciuto avere qualche dettaglio in più, un contorno fatto un po' meglio, però stiamo parlando sempre di una bottiglia con un ottimo rapporto con la presa, quindi ci sta, ci sta tutto, cioè va benissimo. Il palato di buon corpo, la freschezza acida, ok, piacevole, si sente comunque questo tannino, che tende comunque a prevalere, però sicuramente non ti rende il vino noioso. Ok, devo dire, mi è piaciuto un po', non mi è piaciuto, preferisco il bianco, mi è piaciuto un po'. Questo tannino comunque che tende un po' a rendere un po' equilibrato il vino. Fra scherzacida comunque che si fa ben sentire, comunque è un vino, mi è piaciuto un po', va abbinato. Se l'obbina, ad esempio, della Cazzazona, qui è risolto il problema di quelle piccole punte che, bevuto così, ti possono un po' infastidire. Perché? Perché un conto è bere un vino a tavola, abbinato a, e un conto bere un vino così, magari da aperitivo, in piedi, in un bar o a casa tua, eccetera, eccetera. Devi trovare il giusto equilibrio, anche lì, e guardate che non è una stronzata, ma forse ve lo spiego la prossima volta. Ciao ragazzi!